Buongiorno bambine e bambini, ben ritrovati e ben ritrovate. Continuiamo il nostro viaggio alla scoperta delle tipologie testuali e questa volta è qui e studiamo del racconto humoristico. Quanto avvisate ho scritto sul vostro libro a pagina 66 del libro delle tipologie? Che cosa è l'isbicaccio di humorismo? Noi forse volentieri ridiamo, dovremmo farlo anche di più, soprattutto in momenti difficili come questo. Ma cosa ci fa ridere? Qual è l'elemento all'interno di un racconto che ci fa aprire il volto in un sorriso che contagia anche gli altri? Qui c'è una piccola diascalia che ci spiega qualcosa ma man mano che andremo avanti nella scoperta di questo testo scopriremo che cosa è, quali sono gli elementi che devono esserci necessariamente all'interno di un racconto humoristico perché si è efficace, perché spesso siamo di fronte al tentativo di far ridere ma la risata non riesce. Essere di buon umore vuol dire sapersi divertire, apprezzare il lato comico delle situazioni, ma far ridere non è facile. È vero, a volte basta una battuta, una barzelletta, scrivere un racconto humoristico però è molto difficile. Occorre trovare personaggi strampalati, che compiono azioni assurde e che si esprimono in modo divertente. È una bella impresa. Andiamo a vedere adesso che cosa dobbiamo imparare per riuscire a scrivere un racconto humoristico. Chiudiamo pagina. Vediamo. Intanto andiamo ad analizzare la struttura del racconto humoristico, in questo io scopro. E andiamo a leggere un testo che è tratto da Stefano Benni, che è l'autore, Bart Sport, della Feltrinelli, che è un libricino molto simpatico che potete leggere anche voi. C'è un episodio, per esempio, quello della Luisona, che è molto divertente. Allora, leggiamo prima il testo, escludendo le scritte in blu. Dice, pescare non è un ovvio, è una malattia. Il colore del viso del pescatore è rosso febbrile, rilucente di squame di pesce accumulate negli anni. Le mogli dei pescatori sono mute eroine, che sopportano pazientemente carpe gigantesche nel bidet, invasioni di vermi in tilenlo e tonnellate di pesce che nessuno mangia, stipate nei frigoriferi, come nelle baleniere norveggese. I figli dei pescatori hanno del loro genitore un'immagine sfuggente, due stivali verdi e gocciolanti che si allontanano nella notte. Sul tema in classe scrivono, io sono orfano, mio papà fa il pescatore. Poi, a dieci anni, l'ereditarietà della malattia li colpisce inesorabilmente. Ai giardini pubblici catturano di nascosto pesci rossi, gonfi come commendatori. Finché una notte la madre li vede salire sull'auto paterna e hanno anche loro due stivalini verdi, un berretto alla cretina, una piccola canna e un mulinello. Vi è poi il pescatore gastronomico porta con sé un cestino che corrisponde al pasto medio di una famiglia di sei persone. Il cibo più frequente è la cotoletta fredda, dal caratteristico bordo tagliente. Il pescatore gastronomico mangia metà del cestino alle 5 di mattina in macchina. Arrivato sul posto, poggia la canna e ricomincia a mangiare. Finisce il cestino, poi mangia tutta la polenta che aveva portato come esca e alla sera va a mangiare un fritto di nuove qualità di pesce alla trattoria più vicina. Allora, vediamo un po'. Innanzitutto l'autore introduce l'argomento con una esagerazione. Pescare non è un hobby, è una malattia. È chiaro che è un'esagerazione perché non è veramente una malattia, no ragazzi? Lo capite da voi. Andiamo a prendere lo strumento penna così riesco anche a farvi evidenziarvi qualche parte, va? Quindi parliamo intanzitutto di esagerazione. Quando dice è una malattia è chiaro che è un'esagerazione perché è vero che pescare diciamo è intanto nella realtà è un hobby, però quando diventa una fissazione diventa quasi una malattia. Poi esagerazione e deformazione della realtà. Il colore del viso del pescatore è rosso febbrile, rilucente di squame di pesce accumulata negli anni. Secondo voi è vero? È chiaro che non è vero, però dà la misura di quanto la persona di cui sta raccontando sia fissato con la pesca. Poi situazioni e similitudini esagerate. Qui attacca con questo racconto le molli dei pescatori sono mute eroine che sopportano pazientemente carpe gigantesche nel bidet. È vero che sono carpe gigantesche nel bidet, forse non è vero, però in qualche modo va a riprendere degli episodi accaduti realmente come il fatto che un pescatore possa aver poggiato un pesce nel bidet per esagerarlo fino al punto di farlo diventare divertente. Oppure vermi in tinello e tonnellate di pesce che nessuno mangia. È vero questo? Ma anche questo probabilmente non è proprio vero. Però in qualche modo andando a esagerare suscita illarità da parte del lettore. E così via. L'altra parte sono le situazioni inverosimili, difficilmente riscontrabili nella realtà. Quindi se nella prima parte, nelle situazioni similitudini esagerate, si prendono degli episodi reali e li si ingrandisce, in questa parte qui invece ci sono situazioni che sono inverosimili, difficilmente riscontrabili nella realtà. Per esempio, vi è poi il pescatore gastronomico, porta con sé un cestino che corrisponde al pasto medio di una famiglia di sei persone e così via. Questo è vero? Non è vero. Probabilmente l'autore, in particolare a Stefano Belli, è stato colpito dall'osservazione di pescatori che sulla banchina, mentre stavano lì ad aspettare che qualche pesce abboccasse, mangiavano grandi quantità di cibo. Quindi come vedete ci sono delle caratteristiche narrative, delle escamotage narrativi, che fanno sì che il racconto diventi divertente. Lo stesso racconto, senza questi elementi di esagerazione, di similitudini, di situazioni inverosimili, non sarebbe altrettanto divertente. Qui c'è questo esercizio che vi invito quindi a fare. Dice quali espedienti umoristici usa l'autore? Andiamo ancora avanti. Nella pagina successiva, pagina 70 e 71. Qui abbiamo due esempi di racconti umoristici che se volete vi andate un po' a vedere, a tempo debito insomma, magari li faremo. Continuiamo ad andare avanti. Attendiamo che il computer si svegli e andiamo alla mappa. Adesso vi presenterò questa e vi presenterò anche un'altra mappa. Quindi abbiamo detto che il racconto umoristico è un testo comico che narra situazioni divertenti, strane e inconsuete. Qual è lo scopo? Lo scopo è divertire il lettore per mezzo di colpi di scena, esagerazioni delle situazioni. Il contenuto, qual è il contenuto? Sono sempre situazioni assurde o normali che presentano malintesi e giochi di parole. Gli elementi, personaggi, persone stravaganti, pasticcione, buffe, maldestre, che hanno caratteristiche e comportamenti ridicoli e divertenti. Spesso intervengono anche oggetti personificati, tempo e luogo, quelli della vita quotidiana. La struttura. La struttura è composta da imprevisti, malintesi ed equivoci, battute spiritose, contrasti, cambi di scena ridicoli, giochi di parole, equivoci nati dall'uso di parole che hanno più significati, paradossi, situazioni illogiche, fuori dal comune o di un mondo alla rovescia. Adesso vi presenterò un'altra mappa che è ancora più chiara e più completa. Andiamo a prenderla. Eccola qui. Il racconto comico-umoristico. Innanzitutto bisogna distinguere tra comico e umoristico. Infatti qui dice il testo comico suscita nel lettore risate spontanee. Il testo umoristico invece fa sorridere e riflettere sugli aspetti della realtà. Qual è lo scopo? Lo scopo è far divertire il lettore. Chi sono i personaggi? I personaggi sono persone comuni, con difetti, debolezze, stravaganze e descritti in modo esagerato. Le ambientazioni. Può avere diverse ambientazioni, realistiche o fantastiche. Le vicende di soldo si collocano nella stessa epoca dello scrittore. Il linguaggio. Il linguaggio è semplice, familiare, brillante ed espressivo. Compaiono parole abbinate in modo strano, doppi sensi, parole inventate dall'autore. Per ottenere comicità e umorismo si utilizzano le seguenti tecniche narrative. Qui fate attenzione perché non le conoscete ancora. Iperbole. Che cos'è un iperbole? O esagerazione. Cioè significa accentuare aspetti fisici o del carattere. Un esempio. Quell'uomo aveva un naso grosso come un transatlantico. Questa è chiaramente un'esagerazione. O assurdità. Anche quella che ho detto è un'assurdità. Perché un uomo può avere un naso grosso quanto un transatlantico? Assolutamente no. Poi ci sono gli imprevisti. Spesso per un errore involontario. I paradossi. Ragionamento contraddittorio. Per esempio, magari lo vediamo dopo questo del paradosso. L'ironia. Dire qualcosa per intendere il contrario. Equivoci e scambi di persona. Rovesciamento dei ruoli. Distanza tra una situazione e le aspettative del lettore. E poi l'accumulazione incalzante, se seguirsi, di fatti negativi. Voi probabilmente qualche testo umoristico l'avete anche letto. Diario di una schiappa, per esempio, che è un libro che molti di voi conoscono. Non fa altro che raccontare il stile comico-umoristico una serie di episodi. Magari, diciamo, verosimili, perché potrebbero accadere in una classe, ma esagerati. Così esagerati da suscitare assolutamente l'ilarità del lettore. Vi ho prima anticipato che vi avrei fatto qualche esempio di paradosso. Bene, ne vediamo alcuni, sempre sullo stile umoristico. Per esempio, il mio paese era così piccolo che il cartello benvenuti e il cartello arrivederci erano sullo stesso paletto. Oppure, la mia casa era così piccola che svolgevo tutte le faccende domestiche senza alzarmi da tavola. O anche, al mio paese faceva talmente caldo che il mais cresceva, che era già pop corn. Come vedete, tutti questi sono dei paradossi. C'è delle cose, delle figure retoriche, perché fanno parte delle figure retoriche, che non possono essere reali, non possono avvenire nella realtà, ma danno la misura, esagerando, dell'elemento che l'autore vuole mettere in risalto. Per esempio, vediamo le frasi che abbiamo preso in esame. Il mio paese era così piccolo che il cartello benvenuti e il cartello arrivederci erano sullo stesso paletto. evidentemente vuole mettere l'autore di questa frase in risalto il fatto che il paese era molto piccolo, oppure in questo caso che la casa era così piccola, oppure che faceva talmente caldo, quindi voleva mettere in risalto l'elemento del caldo, che il mais cresceva, che era già pop corn, perché come sapete il mais esplode e diventa pop corn ad una certa temperatura. spero che sia tutto chiaro, vi darò degli esercizi da fare sul vostro libro e soprattutto vi invito a leggere, scusate, a guardare un altro video che ho trovato in rete, che spiega molto bene come scrivere un racconto umoristico e vi invito a scatenare un po' la fantasia. Fateci ridere, magari poi li leggerete a noi altri, potete anche registrare dei video che potete mettere sul gruppo whatsapp con il vostro racconto per far ridere me e i vostri compagni, in questo momento di ridere, ne abbiamo tanto, tanto bisogno. Un bacio a tutti, buon lavoro e ci rivediamo presto.